ciao chi sei io mi chiamo leo buongiorno leo io sono aracno piacere di conoscerti vivo qui da molto tempo il mondo là fuori è diventato troppo pericoloso per un ragno come me vuoi entrare ciao chi sei io mi chiamo leo buongiorno leo io sono aracno piacere di conoscerti vivo qui da molto tempo il mondo là fuori è diventato troppo pericoloso per un ragno come me vuoi entrare grazie sto proprio cercando riparo sai sono scappato avevo fatto una ragnatela che mi sembrava molto bella ma gli altri ragni l'hanno criticata hanno detto cose cattive beh sono sicuro che la tua ragnatela è bellissima leo non ti devi preoccupare è che a volte le cose speciali sono difficili da apprezzare buonanotte leo leo si addormentò profondamente le parole di aracno lo avevano rassicurato grazie sto proprio cercando riparo sai sono scappato avevo fatto una ragnatela che mi sembrava molto bella ma gli altri ragni l'hanno criticata hanno detto cose cattive beh sono sicuro che la tua ragnatela è bellissima leo non ti devi preoccupare è che a volte le cose speciali sono difficili da apprezzare buonanotte leo leo si addormentò profondamente le parole di aracno lo avevano rassicurato